Buongiorno, sono Giada Fortunaso e ho frequentato l'ITS, mi sono diplomata a luglio con 110 elode e ho fatto un percorso particolare perché ho studiato prima liceo linguistico e poi ho fatto l'università malistica quindi provengo da un campo totalmente diverso rispetto alla meccatronica in cui appunto mi sono iscritta e ho affermato tuttavia in questo mondo della meccatronica molto innovazione, molto stimolo anche a livello intellettuale ci sono tecnologie, innovazioni, c'è un mondo tutto da conoscere, da sperimentare e vedo anche dei possibili intrecci con il campo malistico quindi è qualcosa di molto interessante da questo punto di vista. Per quanto riguarda le lezioni mi sono trovata molto bene perché ho trovato il supporto dei miei colleghi, dei miei compagni sia nell'istituto o poi a lavoro dove mi sono inserita e per cui credo sia un percorso molto innovativo molto intraprendente anche e qualcosa di molto interessante.